Cari lettori, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa rosa, con una buona dose di romanticismo e umorismo. Ec la storia di una donna che ha una rigida routine e un lavoro presso la squadra di calcio. La sua vita viene sconvolta da un video virale che la mostra in un momento di sconforto, e questo evento innesca una serie di avvenimenti imprevedibili. La trama del libro Facciamo Finta che sia solo un gioco, della scrittrice Ellen Armas pubblicato dalla casa editrice Newton Compton, è la seguente. Adaline Reyes si è imposta una ferrea disciplina, ogni mattina si sveglia all'alba, guida fino agli uffici del Miami Flames FC, la squadra di calcio della città, si impegna al massimo nel lavoro, torna a casa e ricomincia da capo la mattina seguente. Ma la sua perfetta e collaudata routine viene sconvolta da un video, diventato virale, che mostra Adaline che aggredisce senza ritegno contro la mascotte del team. Per non licenziarla, il proprietario della squadra, che si dà il caso sia suo padre, la spedisce nella sperduta Carolina del Nord, dove le viene affidato il compito di risollevare le Green Warriors, la squadra di calcio locale. Adaline Reyes, composta da bambine di nove anni che si allenano in tutù, hanno capre come animali domestici e sono terrorizzate dai modi bruschi di Adaline. A complicare le cose, c'è l'affascinante coach Cameron Caldani, ex portiere prodigio e suo vicino di casa. Sembrerebbe il candidato perfetto per aiutare Adaline nella sua missione quasi impossibile, e perché no, magari distrarla dai suoi problemi. Anche se passare ogni giorno insieme, tra incontri imbarazzanti nel giardino e continue frecciatine dalla panchina, sembra più difficile che mai. Abbandonare il campo, però, non è un'opzione. Ce la metterà tutta per riscattare il suo futuro e quello delle piccole Warriors. Con o senza l'aiuto di Cam. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato, se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.